Un saluto da Vitali Immobiliare. A Cesena sta per succedere qualcosa di veramente unico. Infatti mancano poche ore all'apertura di Imagine Action, il primo festival internazionale del videoclip musicale. Sì, si tiene proprio a Cesena, il 13, 14 e 15 di questo mese. Scenderanno a Cesena degli artisti di primaria importanza, partendo da Sting, ma anche Alex Britti, Antonello Venditti, Nina Zilli e tanti tanti altri. Hai già preso il tuo biglietto? Beh, qui sotto trovi il link per poterti prenotare gratuitamente. Ma perché Vitali Immobiliare si occupa di questo evento? Beh, abbiamo prestato una delle ville che abbiamo in vendita al famoso regista Stefano Salvati per girare uno dei quattro videoclip che verranno presentati nell'evento e in particolar modo quello della famosa canzone di Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me. Peraltro ti ricordo che è già aperta una mostra alla pescheria, anche quella unica nel suo genere, perché espone Renato Casaro. Chi è Renato Casaro? È il più grande illustratore cine del mondo. Ha dipinto le locandine dei film più importanti, come Balla coi lupi, Rambo. Cioè puoi trovare le tavole originali a Cesena esposte alla pescheria. Ti consiglio assolutamente di farci un giro, è un'occasione unica per vedere delle vere opere d'arte contemporanee. Bene, non aspettare, prenota i tuoi biglietti a Imagine Action, ci vediamo lì da venerdì in poi. Un saluto, ciao e alla prossima!